La famiglia nostra è attrezza, ma non c'è mai nessuno che ha... Oh, che ci sei male? La famiglia... Non c'è mai una famiglia che se nessuno mai ne ha battuto, non esce mai una cosa che ha... Come la fatti? Chi la fa? L'attore comico! Il capiglio non... Ah, ma perché ti piace? Io non ce la faccio più. Io devo capire perché mi ha lasciato. Anna, questo è il Vincenzo, l'altro mio fratello. Ciao. Dopo tre anni mi lascia e si mette con uno spedese, uno spedese. E io sapevo, sapevo, con te non ci puoi parlare, tu ce l'hai proprio, Bucchi. Sì, te ne vuoi che la faccio, Bucchi è un nuovo video, tu. Io ho bisogno di parlare, mi devo spogare. Cioè ti stai divertito? Sì, mi sono fatto un sacco delle salle. Sì, bravo, ce ne avviene qua che è un po' tutta la famiglia, no? Perché siamo divertenti. Cioè ci mettono le battute 50 anni, no? Io mi uccido meglio un giorno dalle 1, non c'è. Eh? Meglio 100 giorni da me. Meglio un giorno dalle 1, no? No, non c'è. No, non c'è. Perché venerò più comprare i miei mammi? No, no, non c'erano. No, non c'erano fare un regalo. E niente, abbiamo andato a fare la televisione. Mettevamo 5 milioni lì, 5 milioni lì da Patrixi e un milione e 12. E allora vengo qua, eh. Rivedete, ridete dalle spalle, mi chiedono solo, eh. Ti sto male, che ti vuoi? C'è un po' di morire, ti sto male, mi chiedono. Tu mi capisci, capisci che tu niente? No, tu non mi puoi capire. Non mi vuoi farlo pure tu, io non me ne ho avuto, eh. Mi piace fare un regalo con te. Anche a me. E allora perché non mi vuoi vicino? Vici la vita, salta a pigliare con me. Non mi vuoi capire, capiti come vede, solo per me vuoi ne sembra una chiave. Questa è la combinazione.